È indiziato di essere l'autore di una rapina e di due scippi consumati lo scorso dicembre nel centro storico di Caltanissetta. La Polizia di Stato, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo indagato per i reati di furto aggravato e rapina. L'arrestato è sospettato di aver commesso una rapina e due scippi nel centro storico di Caltanissetta lo scorso mese di dicembre. Dalla visione di numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona, è emerso che l'uomo in uno degli episodi contestati, dopo aver tentato di strappare la borsa a una donna, non riuscendo nel suo intento per la resistenza della vittima, l'avrebbe trascinata a terra facendole battere la testa sul selciato. Inoltre, lo stesso uomo è indagato in relazione un altro scippo e una tentata rapina realizzati il giorno successivo nei confronti di un'altra donna. Gli investigatori, dall'analisi incrociata delle immagini registrate nei luoghi interessati, sono riusciti a dare un volto all'indagato, individuando alcune particolarità fisionomiche dello stesso. Inoltre, in questura sono state convocate alcune persone che hanno assistito ai fatti di reato e sarebbero in grado di riconoscere il presunto autore dei fatti contestati dalle autorità. Così la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto la misura catelare della custodia in carcere disposta dal GIP, che ha accolto la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla squadra mobile della Polizia di Stato.